Piazza Garibaldi, questa mattina la celebrazione dei caduti ravennati del Risorgimento, ricordando lo storico esempio della Repubblica Romana assieme alla condanna per la beatificazione di Pio IX, proponendo il 3 settembre quale giornata dedicata alla laicità dello Stato. Oggi il significato della giornata è un po' particolare, non è anticlericale ma semplicemente significa protestare ancora una volta contro quella scelta che 11 anni fa venne compiuta dal Vaticano di celebrare la beatificazione di Pio IX. Pio IX per noi rimane il Papa che ha perseguitato i repubblicani, i risorgimentali, i garibaldini che andarono a Roma nel 1849 e difesero la Repubblica Romana e difesero una Costituzione che addirittura era la prima che prevedeva libertà di culto in Italia con confini ben distinti, come diceva Spadolini, un tevere largo ma dalle sponde ben chiare e quindi non c'era assolutamente la volontà di perseguitare da parte dei risorgimentalisti la religione, c'era semplicemente quella di avere un paese dove il privilegio e la primazia fosse il potere statuale, lo Stato fosse la Repubblica. In questo modo noi abbiamo fatto sì che il mondo cattolico italiano si rivolgesse a Ravenna in maniera negativa, siamo stati criticati dal vescovo di San Marino che però ha avuto il coraggio di venire a Ravenna, di fare un bellissimo dibattito e per noi oggi il significato è rivolto ai giovani, soprattutto rivolto alle nuove generazioni a cui dobbiamo consegnare un testamento che non può essere soltanto quello di semplici cerimonie ma è un testamento morale, un testamento di studio, un testamento di ragioni che sono essenziali per la libertà civile di questo paese e per la Repubblica e soprattutto oggi è il giorno in cui noi ribadiamo la necessità che l'Italia rimanga un paese unito di fronte a alcune forze politiche oggi di governo che non sono assolutamente d'accordo di celebrare i 150 anni come momento in cui si rilancia l'unità civile e politica e istituzionale di questo paese. La Repubblica romana sia pure con la sua vita efimera e poi travolta dalla reazione internazionale e stava quella che era stata la proiezione poi dell'avvenire europeo per decenni e secolo successivo cioè la concezione di una umanità divisa in popoli ciascuno dei quali aveva il diritto e ha il diritto di vivere unito e indipendente ma nello stesso e naturalmente su basi democratiche e repubblicane ma unito da un afflato fraterno in modo che tutto possa conciliarsi sul piano europeo prima attraverso l'unificazione europea e poi sul piano mondiale. La posizione della Santa Sede era diversa, seguiva una logica di salvaguardia, mettiamola nel senso migliore dei termini, di salvaguardia della propria libertà apostolica per la quale riteneva che fosse indispensabile un potere temporale incompatibile con il mondo contemporaneo e con gli sviluppi del mondo contemporaneo. Quindi era una logica completamente sbagliata che ha posto la Santa Sede fuori dal moto risorgimentale italiano creando il problema che poi è durato per decenni in questo paese. Grazie a tutti!